Sto tornando da Strasburgo in Italia dopo la mia sessione plenaria, l'ultima del 2023, ma volevo mandare il mio abbraccio e la mia assoluta solidarietà a tutti gli agricoltori siciliani e trapanesi in particolari, all'Associazione Guardiani del Territorio che ha meritoriamente posto l'attenzione sullo scandalo che la regione siciliana guidata da Schifani sta combinando, cioè quattro briciole per agricoltori che avrebbero bisogno di tutti altri fondi quando invece si spendono soldi, si spandono soldi molto male. Voglio ricordare che quando l'allora ministro Patonelli immaginava di togliere qualcosa della PAC dei fondi europei agli agricoltori siciliani, io mi sono battuto in prima persona e sono riuscito a ottenere lo stop, grazie anche al lavoro mio e di altri colleghi, un solo centesimo non è stato perso dei fondi europei dalla Sicilia, dagli agricoltori siciliani, però poi arriva la regione e distanzia 30 milioni che sono briciole. Quindi cari amici io sarò sempre con voi, continuerò a battermi in Europa, ma anche in Sicilia e con il governo nazionale perché l'agricoltura è il futuro della nostra terra e ammazzare l'agricoltura significa obbligare i giovani ad andarsene e fare ancora del male alla nostra terra. I soldi ci sono, bisogna saperli spendere bene. Io sono con voi.